A volte basta un po' di fantasia, spaghetti, pomodoro ed allegria. A tavola ti metti con gli amici, due chiacchiere, buon vino e si è felici. E tutti a raccontarsi la giornata, che vada come vada è già passata. Seduti in fila come dei campioni, aspettano fumanti maccheroni. Buon appetito, buon appetito, buon appetito con sorrisi e sabori. Buon appetito, buon appetito con sorrisi e sabori, brindiam. Con sorrisi e sabori, mangiam. Con sorrisi e sabori, brindiam. Buon appetito! Benvenuti amici da casa, telespettatori di Sorrisi e Sapori, tutti a casa mia. Versione casalinga del nostro format di cucina e di enogastronomia, che si gira veramente a casa mia, dove gli attori, colleghi, cantanti, musicisti, gli sportivi, ma anche la gente comune, gli ingegneri, gli idraulici, medici, vengono a casa mia portando loro gli ingredienti e cucinano una ricetta con il mio aiuto. Ci accompagna sempre in questo piccolo viaggio culinario il nostro amico Mario Lupoli, assaggiatore. La nostra trasmissione, insomma... Stanno molto successo, perché a me mi fermano per strada le persone in comune che vogliono venire a fare l'assaggiatore al posto mio. Ma non faccio niente, perché sono io l'assaggiatore, voi fate solo la fame. Quindi, insomma, la gente potrebbe venire al tuo posto, ma l'assaggiatore è solo Mario Lupoli, giustamente. Signore, è arrivato l'ospite. Chi è oggi? È l'attore Oscarino Di Maio. Fallo entrare. Va bene. Ma che ne... No, è... Prego. Le cose che ci vengono spesso. Conosci Oscarino Di Maio? No. Non conosci nessuno. Quella. Buongiorno. Buongiorno. Non le va? No, no, no. Non dai, fa' mazza cortesia. Mi metto in difficoltà. Diamoci un bacio. Sicuramente quello. Amici da casa, l'attore di teatro, di cinema e di televisione, Oscarino Di Maio. Salve. Esponente di una famiglia di teatranti ormai, insomma, dal 1700. Ci sono delle... Lo possiamo dire. Delle tracce, insomma. Io sono la sesta o la settima generazione di teatranti. Settima generazione di attori e di teatranti, soprattutto. Dalla sceneggiata alla prosa al cinema. Tutto bene? No. Perché? Andò, sto un po' arrabbiato. Perché? Ma come? Uno viene a casa, tu invita la gente, ma già portare la roba per mangiare. E vabbè, scusi, tu che cosa hai portato? E che ho portato, ho portato. Ho portato gli spaghetti, perché faccio un piatto di spaghetti, cucinerò e poi... Ah, il prasemol. Le prasemolè. Le prasemolè. E se no, poi me l'ha già portato lì dalla casa. E non mi pare una cosa bella. E ma qui si fa la romana. Ah? Tu che cosa metti? Gli spaghetti, l'aglio. Io ci metto l'acqua, il fuoco, la cottura, la manifattura e i famosi antipasti che fa Moreno. Tu sai chi è Moreno? No. È il mio maggiordomo. Ah, ah, ah. Tu mi devi dare 100 euro, se non mi sbaglio. Devi dare 100 euro a Oscarini di Maio? No, no, ma quella è acqua passata. Ah, è passata. Ma ricorda ancora? Vabbè, vabbè. Scusate che succedono queste cose anche fra gli attori. Tant'è la gente pure a Oscarini. Sì, sì, no, no. E ti vuoi accomodare? Eh, mi farebbe piacere perché sto in piedi. Mi pare proprio come ospitalità zero, ecco. Eh, gradisci un caffè? Ah, volentieri, volentieri. Mi sembra che qui comincia l'accoglienza come si deve agli ospiti. Meno male. Moreno? Conosci Moreno? No, no. Qua nessuno conosce nessuno. Signori, ecco a voi il caffè. Ah, questo è Moreno. Moreno, mio maggiordomo che ha studiato a Oxford. Ah, veramente? Hai studiato a Oxford? No, Villa di Briano. Eh, vabbè, Villa di Briano è una città vicino Londra. Ah, è proprio... Sì, è Villa of Briance. Villa of Briance. Di Briac. Di Briac. Serve altro? No, grazie. Allora io mi... Che? Ritiro. Ma che fa? Ma... Si ritira. Si ritira. Eh, l'ho visto, si è ritirata ma mi ha fatto impressione il ritiro. Fa un po' impressione il ritiro. Il caffè, questo è il caffè di Moreno che fa... Bella faccia, eh? Moreno è un buon caffè, un buon caffè. Questo si fa in cialde, in cialde. Buono. No, abbiamo la macchinetta di Moreno. Mmm, buono. E' buonissimo. Adesso dici ai nostri telespettatori qual è la ricetta di oggi. Dunque, io ho pensato di cucinare gli spaghetti con le vongole fuiute. In che senso? Nel senso che è uno spaghetto della cucina povera napoletana, no? I poveri non tenevano i soldi per comprare le vongole. Allora le mamme cucinavano questo spaghetto con le vongole, ma le vongole in realtà se ne erano fuiute, indubbiamente. Le vongole ci sono o non ci sono? No, se ne sono fuiute. Cioè sono scappate le vongole. Sono scappate, sono andate via. Allora per mangiare le vongole devo correre appresso alle vongole. Non ci sono proprio le vongole. Ah, hai voglia di correre, le vongole non ci stanno. Ogni attore, collega, musicista che viene qua cucina un piatto e dedica il piatto o ad un film o ad un personaggio dello spettacolo del passato. Noi a chi vogliamo dedicarlo? Dunque, hai visto che comunque il vongole scappate, fuiute, è un po' una truffa, no? E' un pacco. E' un pacco, quando ti vedi presentare lo spaghetto con le vongole, ma i vongole non ci stanno, ti senti un po' così truffato. Allora io ho pensato di dedicare questo piatto a un grande, a Nanni Loi, con il quale io ho avuto il piacere di lavorare, ho girato un film che era pacco, doppio pacco contro pacco 8, appunto io facevo il ruolo di forno. Quindi facciamo vongole fiute, omaggio a Nanni Loi. Andiamo a vedere la scheda del film. Pacco, doppio pacco e contro pacco 8 è un film del 1993, ultimo lavoro cinematografico diretto dal maestro Nanni Loi che morirà l'anno successivo. Il film è strutturato in dieci episodi di varia durata, il cui filo conduttore è l'arte di arrangiarsi tipicamente partenopea. Le truffe, i cosiddetti pacchi, sono le vere protagoniste delle novellette in cui si muovono piccoli imbroglioni improvvisati e truffatori di professione. In un continuo gioco di intrighi grotteschi in cui spesso si scopre un truffato ancora più spreggevole del truffatore stesso. Pur nella consolidata piacevolezza del racconto che ha sempre caratterizzato l'opera di Nanni Loi, la critica ha però rimproverato alla pellicola una certa mancanza di spessore, dovuto alla carenza di rimandi alla drammatica e degradata realtà della Napoli dei primi anni 90. Quattro pacchi, quattro pacchi, uno, due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dici. Vado avanti! Vado avanti! Dottor, 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 immagini, immagini, a me per me non ci sta niente. Facci da un presto, regalo, regalo per me. La polizia, la polizia, bui! Non perdiamo la calma. Andiamo! Vado, 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 vado. Eccolo la merisciata, è quello del secondo pacco, il parcheggiatore. E per noi si dovrà mettere conoscenza. E non arrestate? Sssssh! Volete le macchine fotografiche, sì o no? E allora statevi zitti e lasciatemi fare. Guardate e attenzione. Vasto e piuttosto variegato il cast, tra cui spiccano Marina Confalone, protagonista dell'episodio Il fantasma di Via Sanità, Alessandro Haber in cuore di mamma e la coppia Enzo Cannavale e Giacomo Rizzo in Tengo un americano. Oscarino Di Maio, Tommaso Bianco, Peppone De Rosa, Gigi Attrice, nell'episodio che dà il titolo al film. Questo è il corpo del reato, è roba sequestrata. Non so se possiamo. Potete, potete. Allora, ecco. E questo è tutto. Non abbiamo più niente. Vabbè, vannaccia, andiamo. Grazie. Riuscite subito qua voi. Queste nico, il mio nipote fa il fotografo, sarebbe interessato a comprare. Quelli soldi li tiene, li paga bene. Senti, noi queste teniamo. Con queste qua dobbiamo vivere tre famiglie, vedi? Fa una cosa, ammelo pochi di vino rossa, va. Vedi vino, me lo posso vedere. Sì, ma poco, se no poi la notte non dormi. Ma se non dormi non hai far il film. Voi, fa una cosa, passi un saluto. Maria, voi di far il film dal papà. Abbiamo visto la scheda di questo meraviglioso film che è pacco dopo pacco e contropaccotto con la regia di Nanni Loi. Io ricordo che lo andrei a vedere al cinema, avevo 16 anni, Oscar. Ero giovane. Ero giovane quando è uscito questo film e ci sono tanti attori. Centinaia di attori. Di attori napoletani. Ci tengo a dire che Nanni Loi, quando doveva fare questo film, lui volle solo attori di teatro. Lui girò i teatri d'Italia a vedere le compagnie napoletane perché voleva solo attori di teatro. E scelse solo attori di teatro. Quindi in vent'anni adesso succede il contrario. Perché se fai il teatro, insomma, il cinema italiano a un certo livello, insomma, non va bene più. Troppo teatrale. Troppo teatrale, questa è un'espressione che sentiamo spesso. Quindi possiamo iniziare la nostra ricetta e la dolce e soave voce di Oscarino Di Maio illustrerà ai nostri telespettatori gli ingredienti degli spaghetti alle vongole funte. Beh, questo dolce e soave mi ha quasi commosso. Grazie, grazie. Allora, gli ingredienti sono olio, olio extravergine di oliva, aglio fondamentale e poi abbiamo prezzimolo che è l'anima dello spaghetto. L'anima. È l'anima dello spaghetto con le vongole funte. Con le vongole funte. Ci vuole sale, va bene. Sale grosso e sale fino. Sale cubi. Sale cubi che significa? Quanto basta. Ah, quanto basta. E poi, se mi fai la cortesia, ho preparato quella cosa con gli spaghetti. Agli spaghetti. Gli spaghetti sono poi, diciamo, quello è l'anima, questo è il corpo. Perché il nostro regista ha creato questa coreografia di spaghetti, io l'appoggio qua. Questa scenografia vorrei dire. Ma scusami, questa sorta di sci... Anche una coreografia perché gli spaghetti ballano. Ah, vabbè, vabbè. Allora, dunque, vogliamo passare all'azione? Andiamo all'azione. Dunque. A pensiero, passiamo all'azione. Allora, prendiamo... Si prenda l'aglio. Si prenda l'aglio. Prima di metterlo nell'olio bollente, io lo schiaccio. Ah, la famosa schiacciatura dell'aglio. Si sente questo tac. Quando tu... Allora, l'olio l'abbiamo... L'olio lo posso mettere io? Certo. Ho acceso già la fiamma, mi sono permesso. Allora. Ok, va bene così. Metto l'aglio. Quindi, insomma, il trucco di questi spaghetti alle vongole fuiute è l'aglio intero schiacciato. Schiacciato. Io, prima che... Mentre tu continui, io voglio fare un appello ai nostri telespettatori. Se avete un'attività ristorativa, oppure un'azienda che produce prodotti tipici e la volete pubblicizzare nel nostro format Sorrisi e Sapori, basta scrivere a sorrisiessapori-libero.it o alla nostra pagina Facebook Sorrisi e Sapori o la dispensa del sorriso. Oppure chiamate al numero che sta sulla mia pancia e poi oppure sulle nostre pancia c'è questo numero di cellulare a cui potete chiamare. Ma anche chi è interessato a fare una ricetta, se avete una ricetta e la volete provare a casa mia in Sorrisi e Sapori, chiamate o scrivete. Allora, noi continuiamo. E l'aglio sta sovriggendo. Ricordiamo che i telespettatori a casa, chi si è sintonizzato da poco, l'ospite di questa giornata è Oscarino Di Maio, attore di teatro e di cinema, che sta cucinando a casa mia gli spaghetti alle vongole fuiute. Io si potrebbe parlare per due o tre ore della tua carriera, perché è incominciato proprio presto. A quanti anni è incominciato a fare l'attore? A venti. A venti. A venti anni. Da professionista a venti anni. Da professionista per i venti anni. Ma anche prima. Ma anche prima. Hai debuttato, credo, a San Nazaro. Sì, da professionista sì. Uno spettacolo, io da qualche parte devo avere ancora la brochure, se è quello che penso io. La? Lisistrata. La Lisistrata. La Lisistrata, scritta da Gaetano Di Maio. Gaetano Di Maio, ricordiamo che forse il più grande, no forse, il più grande comediografo napoletano a... Dopo Scarpetta. Dopo Scarpetta. Chiaramente non perdendo in considerazione Edoardo De Filippo che è fuori. Proprio, insomma, Edoardo è un comediografo, perdonami, italiano, di lancio europeo. C'è, sicuramente. C'è Gaetano Di Maio, un comediografo assolutamente di impronta napoletana, però abbiamo visto anche degli esperimenti di spettacoli, vedi, Madame Quattro Soldi in quella versione, fatta anche a Roma e a Milano, io l'ho vista e la gente rideva come a Napoli. Però io ti voglio contraddire. Perché? Nel senso che, sai che i legnanesi, la compagnia di legnanesi, la grande compagnia di attori milanesi, di legnano, tu li incontri al Blitz, quando vai a mangiare al Blitz a Milano. Bravo, bravo. Una volta ci siamo andati anche insieme. Come si chiama il nostro amico del Blitz? Ho dimenticato, straordinario, è un ristorante di Milano. Eccezionale, eccezionale. Possiamo nominare, lo salutiamo, il Blitz a Milano, un ristorante di cucina straordinaria. Sì, allora no, ho tolto un po' l'olio dal fuoco, perché se no... Se no sfricola troppo. Eh, sfricola troppo. Allora, adesso dobbiamo... Se la pentola... No, non bolle ancora. Adesso facciamo una cosa, noi spostiamo sulla fiamma più grande per farlo bollire e mentre l'acqua bolle, noi abbiamo una rubrica in trasmissione che si chiama Riconosciti in TV. Noi abbiamo preso da internet oppure dai libri di cucina fotografie di persone o che cucinano o che sono seduti in un ristorante. Chi si riconosce in questa fotografia vince una sorpresa culinaria. Alla regia Riconosciti in TV. Speriamo che si riconosca anche oggi la persona che è stata fotografata. Questa rubrica che si chiama Riconosciti in TV. Se ti sei riconosciuto scrivi a sorrisiessaporichiocciolalibero.it o sulla nostra pagina Facebook che è Sorrisi e Sapori. Ricordiamo anche la pagina Facebook del mio amico Oscarino Di Maio che ha ormai 2000 amici, 2500 amici. Pagina Facebook anche di Oscarino Di Maio. Spaghetti alle vongole faiute, l'acqua bolle perché nella cucina napoletana e nelle case napoletane l'acqua bolle 24 ore su 24. Siamo pronti. Allora possiamo buttare questi spaghetti? Diciamo immergere perché buttare per esempio le persone che sono al di fuori della campagna. Penso che vogliamo buttarli via. Penso che vogliamo buttare. Poi Mario Lupoli che è il nostro assaggiatore che cosa mangia? Veramente, è vero. Già il vongolo se mi sono qui. Buttiamo pure gli spaghetti. Allora questa è la presina c'è scritto sopra una cosa che non possiamo dire. Eh no. Piano piano non scontarti. Meglio ripeterla. Allora. Caro il mio amico Oscarino. Oh eccoli là. Allora mentre tu sali, bisogna salare, abbiamo detto che Oscarino è iniziato al Teatro San Nazaro a 20 anni, poi ha continuato le compagnie. Io mi ricordo insomma alcune cose, è stato in compagnia con Luigi De Filippo. Solo sette anni. Solo sette anni, in compagnia con Carlo Giuffretti. Solo sei anni. Solo sei anni, ma poi insomma tante altre cose. Ma poi la stabile del Teatro Cilea con Giacomo Rizzo, Rosario Amaggio. Mi ricordo uno spettacolo che io sono venuto a vedere, mi sono fatto un sacco di risate che si chiamava Un figlio per lo scelto, che con Giacomo, io mi sono tanto divertito, lo veni a vedere in questo teatro, il salotto del Teatro Napoletano che è il Teatro Bracco, il salotto del Teatro Napoletano gestito da Caterina De Santis, a cui io farei tanti 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 cari saluti. Ma Caterina non viene al Cusino Cusinino? Ma non lo so se Caterina, ma poi Caterina deve portare le cose, insomma. No, ma Caterina è di mano larga. Ah sì, e allora Caterina, vieni a cucinare, facciamo le pennette alla Luisa Ponte. Noi siamo pronti perché la pasta sta bollendo, ma poi non dimentichiamo le apparizioni cinematografiche di Oscarino, allora i film che mi ricordo io, Pacco Doppio Pacco e Contropaccotto. Dio ci ha tirato gratis a Di Angelo Antonucci in una scena con Nino Manfredi, c'ero anche io. E Leo Bullotto. E Leo Bullotto quando l'hai girato mi ricordo che c'ero anch'io. E poi La valigia sul letto di Edoardo Tartaglia. Pianese Nunzio, 14 anni a maggio. Poi se non vado errato, anche un film che era Polvere di Napoli, di Capuano. Se non vado errato, è lo stesso Pianese Nunzio di Antonio Capuano. Sempre di Antonio Capuano che è un film, mi ricordo, straordinario, con venti voglio. Ma non dimentichiamo che un po' di televisione pure, prima di fare la tribù locale, l'abbiamo fatta. Eh sì, diciamolo, ditto. Vabbè, diciamo, la squadra, il posto al sole. Le Candid Mercellina. E poi all'epoca, quando c'era una trasmissione a Italia 1, si chiamava Smile, che conduceva a Gerry Scorsi. Io ero l'attore protagonista delle Candid Mercellina, erano le Candid che si giravano a Napoli. L'avrò girata una cinquantina. Molto successo, io me lo ricordo. Era l'85, 86, io andavo ancora a scuola, che sono un po' più giovane di Oscar. Tornavo a casa, Gerry diceva buttate il telecomando, io il telecomando non lo buttavo perché guardavo Oscarino nelle Candid Mercellina. Avevo 11 anni, non per dire la differenza di età fra me e te. No, ma non si vede però. Ma assolutamente, nemmeno di altezza. Oh, allora. Allora, piano, 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 piano. Abbiamo questi mezzi poterni per scolare la pasta. Ah, la nonna mi fosse aiuto manicomico. Lo scottarti soprattutto. No, 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 quello no. Qua si cucina tutto in diretta, eh? Eh, certo, certo. Spaghetti alle vongole faiute che vengono mischiati, mescolati nella nostra padella. La puoi appoggiare anche un'altra volta nell'acqua. Piano piano. E qua viene il trucco. Qual è il trucco? Invece delle vongole noi riempiamo di... Con il prezzemolo. Prezzemolo. Di conseguenza la forchetta io ce la vivo. Una forchetta te la prendo io. Ce la vivo a portata di mano. C'è un forchettone, eccolo, di legno. Ah, eccolo. Bisogna girare sempre le forchettone di legno. Eh, bene, bene. Spaghetti alle vongole faiute. Saltiamo in padella. Saltiamo in padella. E, amici da casa, si sente un grande profumo. Veramente si sente il profumo come se avessimo fatto davvero gli spaghetti alle vongole. Ma senti le vongole? Sì, ricordiamo che è un piatto della cucina povera. Se conoscete i piatti della cucina povera delle vostre regioni, ma non solo la Campania, ma anche la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, le Marche, il Lazio, scrivete a sorrisiessaporichiocciolalibro.it e io vi invito qui a creare le vostre ricette di cucina povera. I napoletani, con la loro fantasia, hanno fatto pure la finta genovese. Che meraviglia. Il finto ragù. Ma, è bravo, mia madre ogni tanto diceva oggi faccio un po' di salsa finta. Brava, è brava. Te la ricordi? Allora, siamo pronti, dobbiamo solo impiattare. E mangiare. E mangiare, andiamo da Mario a mangiare. Io mi allontano e vado a prendere i piatti perché non abbiamo spazio per metterli. I nostri piatti, questi piatti sono offerti da mia madre, che salutiamo, che ci ha ospitato mia madre Lia. Grande donna. Grande donna, che ci ha ospitato nella sua cucina. Grande pazienza principalmente. Soprattutto con me. Allora, guarda qua, guarda qua. Le vongole sono scappate. Non sono scappate, però... Ci sono state. Ci sono state. Ah, mamma, non è che voglio vantarmi. No, assolutamente. Però, insomma... Andiamo avanti. Che meraviglia. Dammi un altro piatto perché tu lo sai. Tu lo sai che chi cucina non mangia. C'è questa legge qua. Quindi io mangerò solo io e Mario Lupoli. Eh, no, ma questo me lo dovevi dire prima, però. Eh, vabbè, non te l'ho detto. Eh, scusa. Ah, chi cucina non mangia. Perché Moreno è andato... Moreno è andato. Moreno, il mio maggiordomo, è andato. Io saluterei soprattutto, se lo posso dire, la fidanzata di Moreno, che è Rosaria, che ha una grande pazienza con il maggiordomo. Ha fatto un voto. Ha fatto un voto. Che cosa ti serve? Te lo do io. Mi serve la forchetta per assaggiare. Ah, no, non devo assaggiare. Non devi assaggiare. Allora, noi possiamo prendere i nostri piatti. Siamo pronti. Spaghetti alle vongole fuiute fatte da Oscarino Di Maio. Siamo pronti per andare dal nostro assaggiatore. Eh? Ah, le vongole sono scappate, ma si sente proprio l'odore. Finalmente ci siamo trasferiti dalla mia cucina al salotto di casa mia per poter assaggiare finalmente questi spaghetti alle vongole fuiute fatte da Oscarino Di Maio. Io non vedo l'ora di assaggiarli. Aspetta un momento Antonio, non vedi loro, ma tu proprio ospitalità a zero. Perché? Non hai capito? L'assaggiatore deve assaggiare. E io sono riparato di casa. Chi cucina non mangia. Ma chi la ha hit sta cosa? Scusa, eh? Ma chi te la ha hit? Chi cucina? Chi porti spaghetti e non mangia? E' troppo una forchettata. E una forchettata te la darei volentieri. E allora vuol dire che invece di mangiare potrò bere come aperitivo, che successivamente poi mangerò, il vino della cantina di Giovanni Molettieri. Questa volta è Niveus, che è un fiano di avellino perché sulle vongole fuiute abbiamo abbinato il Niveus. Il vino non lo devo bere? Sì, ma siccome devo vedere come ci sta sopra, allora assaggio prima. Ah, quindi nemmeno il vino di Giovanni Molettieri. No, non lo so, non credo, non credo. Eh, vabbè. Però ti assicuro, eh, è buonissimo. Sono buoni? Buonissimo. Eh, vabbè, amici da casa, voi vedete, io resto sempre con questi arnesi, ma sono buoni. Un piatto di spaghetta, andò, mai visto. Mai visto pure per me. Eh, va bene, signori. Noi ci salutiamo. Abbiamo terminato un'altra puntata di Sorriso e Sapore tutti a casa mia. Oggi è venuto Oscarino Di Maio, attore di cinema e di teatro, ha cucinato gli spaghetti alle vongole fuiute che io per l'ennesima volta non mangerò. Questa è la fine del mondo. Buono. Sorriso e Sapore. La vita è così. A volte basta un po' di fantasia, spaghetti, pomodoro ed allegria. A tavola ti metti con gli amici, due chiacchiere, buon vino e si è felici. E tutti a raccontarsi la giornata, che vada come vada è già passata. Seduti in fila come dei campioni, aspettano fumanti maccheroni. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon sorrisi e sapori, brindiam. Buon sorrisi e sapori, mangià, buon sorrisi e sapori, brindiam. Buon appetito. Mi piacerebbe tanto vedere uno spettacolo. Ma io voglio anche mangiare. Unendo le due cose nasce il catering del sorriso. Antonio Fiorillo. O lo staff di Sorrisi e Sapori porterà in giro lo spettacolo non solo barzellette, dove potrete mangiare e farvi tante risate. Scrivete a sorrisi e sapori chiocciolalibero.it Buon appetito. E buon divertimento. E buon appetito.